Il catalogo Camerette 2024 Ikea offre un ampio ventaglio di soluzioni per bambini e adoslescenti, ospitando diverse composizioni funzionali, pratiche e adattabili alle diverse necessità. Proposte originali includono camerette ispirate alla natura, con colori rilassanti e tonalità neutre, e soluzioni per camerette condivise, per gestire al meglio la convivenza di caratteri diversi. Il catalogo offre suggerimenti per l'arredo di camerette di dimensioni ridotte, utilizzando contenitori salvaspazio, letti rialzati e mobili a parete per massimizzare l'efficienza dello spazio. Il catalogo include giochi di luce e colore per arredare la cameretta, oltre a una varietà di complementi d'arredo ed elementi decorativi, come piante artificiali, poster, stampe e lampade intelligenti dall'intensità della luce regolabile. Grazie. 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 Grazie.